Il sindaco mediamente ogni 10 ore subisce una minaccia, un'aggressione perché rispetta il suo dovere di tutelare una comunità, perché vuole fare rispettare le leggi. Naturalmente oggi ricordiamo tutti insieme, tutti gli 8.000 sindaci italiani di qualunque polore politico, il nostro amico Angelo Vassalo che è stato un esempio per tutti quanti noi e nel suo ricordo vogliamo andare avanti chiedendo che ci siano gli strumenti per consentire ai sindaci di fare rispettare sempre di più e meglio le legalità nei territori in cui operano, senza avere minacce per quello che fanno, ma con il coraggio e soprattutto che qualcuno aiuti a difendere la reputazione dei sindaci, perché la reputazione dei sindaci è un bene prezioso per la democrazia e per il nostro Paese.